Silvio Varetto, sindaco di Alpette, appuntamento nel suo comune ad ottobre per un'inaugurazione importante. Sì, l'inaugurazione è veramente importante perché la biblioteca del comune di Alpette è sempre stata una biblioteca che ha dato un grande servizio a tutti i giovani che sono cresciuti in paese. C'era bisogno di una nuova biblioteca proprio perché negli anni le donazioni dei volumi, volumi importanti, sono aumentate proprio grazie a questa tradizione della resistenza e le famiglie hanno donato documenti importanti che merita uno spazio nuovo. Uno spazio nuovo allestito di fronte all'ecomuseo del rame lavoro resistenza che permetterà così agli operatori innanzitutto con pochi metri di potersi spostare da un sito all'altro e nello stesso tempo avere sotto controllo la situazione di questi due siti che sono un polo culturale di eccellenza per il canavese.